...inconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché. Ma l'amicizia sai è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. 6.30, aspettiamo 800. 7.63. Buonasera, amici e... Allora, buonasera a tutti, Diario di Bordo, giorno 61. Ieri abbiamo parlato di Alpini, più tardi nel corso della diretta parlerò anche di amici, amicizia e persone che mi sono vicine. Mi sembrava bello, anziché stare 30 secondi in silenzio in attesa di arrivare agli 800, ascoltare questo pezzo famosissimo dell'amico Piero Montanaro, che ringraziamo e che ci ha liatato questo inizio di serata. Partiamo dai buoni spesa. Con oggi si sono fatte delle altre attività negli uffici comunali, come vi ho detto. Uffici che hanno lavorato anche di sabato e di domenica per poter essere fra i primi a poter arrivare in soccorso, in aiuto di quelle famiglie, di quei nuclei familiari che sono andati in difficoltà. La cosa che vi ho sempre detto e vi risottolineo stasera è che la maggior parte di questi nuclei familiari erano di persone sconosciute ai servizi sociali, quindi nuove povertà, persone che non hanno preso lo stipendio, persone che hanno l'attività chiusa, persone che sono in questo momento in difficoltà e che andavano aiutate. Il dirigente, il dottor Giolito, mi comunica che si è effettuata un'ulteriore verifica sulle domande e si è riuscito a recuperare altri nominativi che si stanno prendendo in considerazione per cercare di dare un aiuto. Alcuni nominativi sono stati inseriti fra quelli a cui daremo i buoni nei prossimi giorni. Mi si chiede quindi di pazientare, si stanno lavorando su questi ultimi casi che siamo andati a riprendere. Purtroppo, questo bisogna dirlo perché è un dato oggettivo, i fondi che abbiamo ricevuto dal governo, che ringraziamo e che sono 404 mila euro, come vi ho già anticipato nella serata di ieri dove ho chiesto aiuto agli astigiani che possono per andare incontro a quelli che invece sono in difficoltà, i fondi del governo non sono stati sufficienti a coprire la spesa complessiva dei nuclei familiari che hanno dichiarato reddito zero e quindi l'amministrazione ha dovuto integrare con i propri fondi, stiamo cercandoli e comunque cercheremo di andare in soccorso a tutti coloro che sono reddito zero. Questo ha fatto sì che sono finiti i buoni che pensavamo, ne abbiamo dovuti far stampare degli altri, questi buoni sono stati consegnati oggi pomeriggio e quindi domani si continuerà a distribuire. Quindi pazienza per piacere ma stiamo arrivando da tutti. Si è perso anche del tempo, bisogna dirlo, per tutta una serie di controlli. Molti di voi in questi giorni si sono preoccupati, qui noi pensiamo sempre al negativo, no? Quindi anziché pensare che ci sono 1300 nuclei familiari più gli altri 1000 di donna la spesa, 2300 nuclei familiari che sono aiutati, si va a pensare chissà quanti non meritavano questo aiuto o ci sono le invidie e le gelosie di quelli che magari non sono rientrati fra coloro che hanno potuto beneficiare di questo aiuto e che quindi se la prendono o guardano storto quelli che lo hanno avuto. Però sappiate, visto che lo state scrivendo e chiedendo in tanti, che si sono fatti molti controlli, addirittura gli uffici, sempre il dirigente Giolito mi ha segnalato che sono stati scoperti alcuni casi da verifiche incrociate interni con dei dati che noi avevamo e sono le persone state contattate e si sono impegnate a restituire i buoni o i soldi corrispondenti a quelli già spesi. Tenete presente che nelle prossime ore, visto che abbiamo avuto modo di parlare con la Guardia di Finanza e ci sia accordati come procedere, le domande saranno anche in parte esaminate grazie alla loro collaborazione e quindi ci saranno successive ulteriori verifiche. Mi auguro che tutti abbiano fatto le domande consapevoli del motivo per cui chiedevano questi contributi e rispettosi di quelli che erano i dettami. Oggi relativamente a questa cosa dei buoni e soprattutto dell'attività investigativa che ho avuto domenica sono arrivate ulteriori critiche, soprattutto i 5 Stelle e il suo capogruppo hanno fatto presente che non è giusto questo tipo di gestione, che dovrei essere più serio, che dovrei essere più responsabile, che dovrei occuparmi di altre cose. Io mi sto occupando di tutto a 360 gradi, questo è il mio modo di gestire, andare a verificare tutte le cose e l'ho fatto sempre nella vita prima di fare il sindaco, lo faccio anche adesso da sindaco. Non cerco la ribalta, non me ne interessa della Dursa, non mi interessa di trasmissioni che mi stanno cercando per sapere come è andata e che cosa ho fatto, non ho bisogno di quello soprattutto in questo momento. Faccio delle attività da sindaco dopo tre anni che lo sto facendo che ho fatto anche nei mesi e negli anni precedenti perché vi ricorderete benissimo quando andai in incognito anche all'ufficio dell'anagrafo e vi ricordate benissimo, credo, e qualcuno di voi leggi i giornali, che con una certa frequenza io mi presentavo, perché oggi sono chiuse, alle mense delle nostre scuole per andare a vedere quello che mangiano i vostri bambini. Se io avviso il sindaco viene a pranzo domani in una determinata scuola, state tranquillo che mi fanno trovare tutto che è a posto. Senza dirlo, mi abitudine, mi presento, mangio le stesse cose dei bambini e verifico quindi come mangiano, che cosa gli diamo. Può essere un metodo brutto, non si addice a un sindaco, questo non lo so. Questo sono io, così mi comporto, cerco di farlo col massimo impegno, con la massima onestà e trasparenza. La cosa però più grave, e finiamo quindi dall'altra parte, è che in questo tacco ci siamo poi spostati su un altro campo, che è un campo un po' più delicato, che è un campo che mi dispiace di più tirare in ballo, che è quello della salute e dell'ospedale. E quindi siamo ritornati con la trasmissione di cui abbiamo parlato ieri, di report, e sono stato accusato e attaccato e criticato per aver definito quella trasmissione un po' di parte e una trasmissione che aveva un po' costruito il servizio così come era venuto fuori. Quello che posso dire è che mi è veramente dispiaciuto leggere che mi si accusa di aver criticato il report che è di fronte all'evidenza dei filmati, ha fatto un servizio, così come mi si arriva a dire, ma hai la coda di paglia? Perché devi difendere di ufficio l'ASL? Che cosa c'entra? Hai paura? Temi qualcosa? Evidentemente non si è capito le cose che ho spiegato ieri, il taglio che ho voluto dare. La risposta però che a questa cosa arriva oggi, credo che tutti abbiate sentito che cosa ho detto ieri, ho fatto presente che era sbagliato rovinare due mesi di attività di quella struttura e di tutte le persone che ci hanno messo anima corpo dentro, ce le mettono già di solito, ma in questi due mesi gli abbiamo chiesto uno sforzo ancora più elevato. Comunico che l'ASL risponderà ufficialmente domani e quindi domani ci sarà anche una posizione ufficiale della struttura su quello che è stato fatto, su eventuali dati che non erano corretti dicendo la sua versione, quindi l'ASL non ha di sicuro bisogno della mia difesa e io tantomeno non ho la coda di paglia. Sono però il rappresentante di un'istituzione, con quest'altra istituzione l'ASL fino ad oggi abbiamo fatto un percorso, sono convinto che ognuno ci abbia messo del suo meglio, sono convinto che ci sono portati a casa dei risultati importanti e che se non si fossero fatte delle cose noi saremmo piazzati molto peggio rispetto a quanto non siamo messi oggi. Quindi mi pareva giusto andare a dire le cose che ho detto ieri. Quello che però posso dire, senza dover ulteriormente replicare questa sera, che la miglior repica alle accuse sul servizio di report e su quello che io ho detto ieri arriva oggi da un documento che è andato a tutti i giornali a firma di direttori di dipartimento ospedalieri e primari. Che cosa dicono? L'hanno scritto loro, non l'ha scritto Maurizio Rasero, quindi non può essere un politico di parte che lo scrive, l'hanno scritto medici, medici affermati che tutta la città conosce nelle mani dei quali abbiamo messo la nostra vita in questi anni o quella di qualche nostro caro perché dall'ospedale tutti purtroppo prima o dopo ci siamo passati e questi medici, importanti medici di livello dicono l'inchiesta di report, punto di domanda, visibilmente finalizzata a cercare solo inadempienze. Lo scrivono i direttori di alcuni dipartimenti ospedalieri del Massaia, secondo cui l'indagine giornalistica non ha tenuto conto di altri rilevanti aspetti, soprattutto di una serie di ottimi risultati che vengono qui citati e che non vi sto a dire. Credo che questo intervento che è pubblico uscirà sui giornali, sui siti online ci sono già, ma uscirà anche la dichiarazione ufficiale dell'Asda. Interessante un passaggio dove loro dicono che riteniamo porturo esternare alcune brevi considerazioni sulla trasmissione di Rai3 Report di lunedì 20 aprile. Le modalità e l'atteggiamento adottati durante l'indagine, assolutamente lecita, erano però visibilmente finalizzate alla ricerca di possibili incongruenze o inadempienze, senza tener conto del contesto in cui si è dovuto agire. Più tutta un'altra serie di cose, appare quindi chiaramente limitante non aver considerato anche altri aspetti della situazione, come la tipologia degli interventi effettuati da parte di tutti gli operatori sanitari e gli ottimi risultati ottenuti. Il numero di dicessi di coronavirus in questa provincia è sempre stato fra i più bassi nel Piemonte, lo confermano ancora i dati di questa sera e più tutta un'altra serie di cose. Ripeto, lo dicono dei medici, non lo dice Maurizio Rasiero. L'Asda non ha bisogno di Maurizio Rasiero che la difenda. Maurizio Rasiero ha soltanto semplicemente detto che si è fatto un grande lavoro fino ad oggi e va rispettato il lavoro di tutte queste persone che sono state in prima linea per noi. Mi si richiama quindi a serietà, responsabilità, a guardare in questo momento difficile. Io vi posso dire soltanto una cosa, io non mi sono nascosto, ci ho messo la mia faccia, sono presente quotidianamente con voi perché ho inteso fin dal primo momento cercare di prendervi tutti per mano e insieme a voi fare un cammino per cercare di venirne fuori da questa cosa il prima possibile e nel miglior modo possibile. Sono una persona che ascolta tutti ma poi decide e in base agli elementi tecnici che ho, in base alle situazioni che anche con la Giunta esaminiamo e prospettiamo, dopodiché decidiamo. Ci sono mille situazioni che in questi due mesi avrei potuto cavalcare, mi ricordo, i mercati quando c'è stato tutto il polverone perché li apri, ok, che poi semplicemente li ho chiusi per tre settimane e mezzo e li riapro quando qualcuno li aveva sempre tenuti aperti. Mi sarebbe però per cavalcare la gente il sentimento di quel momento, bastato dire non li apro, così come ci sono la pulizia delle strade, mi ricordo quando mi si diceva come faceva qualcuno, butta l'acqua sulle strade, puliscile, c'erano degli istituti invece importanti a livello nazionale nel campo sanitario che diceva che probabilmente non servivano ma anzi invocevano. Mi sono divertito in questi giorni, non c'è niente da divertirsi ma ci ho pensato e ci ho sorriso su per sdramatizzare un po' in questi giorni quando si è parlato che a Parigi si è trovato il Covid nelle acque non potabili fortunatamente, nelle altre l'utilizzo che queste acque se ne faceva era quello di buttare l'acqua sulle strade e pulire le strade. Quindi certe volte il cittadino vive di momenti, di situazioni, di stato d'animo e magari non è portato a ragionare, quindi si lavora soprattutto di pancia magari e non di testa. Avrei potuto seguire tante cose che mi sono state dette, abbiamo cercato di fare un lavoro razionale, di usare la testa, di prendere decisioni migliori, di cercare di ottenere i massimi risultati per i nostri cittadini e lo abbiamo fatto tutte le istituzioni assieme. Quindi quando mi sono trovato di fronte a un attacco verso un soggetto come l'ASL, ma poi ho anche aggiunto se qualcuno ha delle responsabilità sicuramente ci saranno tutte le attività per andare a vedere se ci sono o no, ma non mi sento di dire che si possa appoggiare quello che abbiamo visto in televisione l'altro giorno. Mi fa piacere che anche dei medici affermati che lavorano all'interno della struttura ce l'abbiano scritto. Una notizia che l'Avis mi ha chiesto di dare questa sera, mi hanno chiamato oggi e mi hanno detto che in questo momento, questa diretta della sera, un canale particolare, molto sentito e particolarmente apprezzato. Ci piacerebbe che potesse trasferire delle notizie. Le notizie che vi voglio trasferire sono dopo una temporanea sospensione riprendono da venerdì 23 aprile le donazioni in autoemoteca in Piazza Alfieri. Tutte le donazioni in ospedale o in autoemoteca devono essere prenotate e il numero è 0141 21 04 10. Le donazioni in ospedale e in autoemoteca avvengono in sicurezza. Questa è quindi con l'osservanza di tutte le prescrizioni di legge. Questa è una cosa che mi è stato chiesto gentilmente e sottolineato di dire perché alcuni che hanno telefonato in ospedale, venuti a conoscenza che bisogna andare in ospedale, si sono presi paura e hanno immaginato che fosse una situazione di pericolo. Mentre invece il tutto avviene nella massima tranquillità, sicurezza, non è pericoloso e quindi si può andare a donare il sangue tranquillamente in ospedale. L'Avis mi ha pregato di ringraziare in modo particolare tutti i cittadini che hanno donato in questo periodo, in particolar modo la comunità islamica astigiana. L'avamo già ringraziata noi per altre cose nei giorni scorsi, oggi la ringrazio anche da parte dell'Avis. E poi in ultimo ci comunicano che nel periodo della crisi, in queste settimane, sono state ben 176 le persone che hanno risposto l'appello, quindi ci sono ad asti 176 nuovi donatori. Grazie a tutti loro, grazie da parte dell'Avis, grazie da parte delle istituzioni e di tutti gli altri cittadini. Proprio perché prima eravamo in un clima un po' più polemico, di gente che ha sempre da dire e da per forza, per partito preso, attaccare. La storiella che questa sera velocemente vi volevo raccontare arriva da Socrate. Quindi nell'antica Grecia sappiamo quanto Socrate fosse reputato saggio, un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo e gli disse, sai cosa ho appena sentito sul tuo amico? E lui gli dice, aspetta un momento, prima che me lo racconti vorrei farti un test, quello di tre setacci. I tre setacci gli risponde questo, sì, continua Socrate, prima di raccontare ogni cosa sugli altri, ebbene prendere il tempo di filtrare ciò che si vorrebbe dire. Lo chiamano il test di tre setacci, il primo setaccio è la verità, hai verificato se quello che mi dirai è vero? E quella persona rispose, no, ne ho solo sentito parlare. Molto bene, quindi non sai se è la verità. Continua con il secondo setaccio, quello della bontà. Quello che vuoi dirmi sul tuo amico è qualcosa di buono? Ah no, al contrario. E quindi dice, dunque, sostiene Socrate, vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. È utile che io sappia cosa mi avrebbe fatto questo amico? No, la risposta. Allora, concluse Socrate, quello che volevi raccontarmi non è vero, non è buono, non è utile. Perché volevi dirmelo? La morale è che se ciascuno potesse meditare e mettere in pratica questo piccolo test, molto probabilmente il mondo sarebbe un posto migliore. Da oggi è operativa in regione una seconda unità mobile per i tamponi. Importante, le unità mobili svolgono una funzione integrativa rispetto a quella propriamente in capo alle ASL e alla loro articolazione territoriali. Si occupano delle segnalazioni urgenti che giungono all'area funzionale dell'unitena di crisi e rispetto alle quali si assume la decisione di concerto con i territori di procedere con rapidità. È un mezzo in più che gira, è un aiuto in più per fare tamponi e per cercare di arrivare ad intervenire il prima possibile. Abbiamo parlato in questi giorni di orti. Abbiamo visto l'orto sì, però l'orto non vicino alla seconda casa perché nella seconda casa non puoi andare. Io ho sempre detto, guardate che poi oltre a queste cose che sono ancora molto lontane dall'essere chiare, c'è il problema degli orti comunali. Noi abbiamo 344 pezzamenti di terreno raggruppati in varie zone della città che attraverso un bando sono stati date a delle persone per coltivarli per l'autoproduzione e abbiamo sempre detto che quegli orti li tenevamo chiusi anche perché ce ne sono alcuni dove 40-50 persone potrebbero, se vanno tutti assieme al proprio orto, assembrarsi e avere quindi recare un problema. In considerazione che questa interpretazione ha un po' fatto immaginare a tutti che quegli orti si potessero utilizzare. Oggi noi per sicurezza, io ho firmato un'ordinanza la 34 del 22 di aprile con la quale dico che i nostri orti comunali rimangono chiusi. Capiamo l'esigenza che avete, capiamo l'esigenza di quelli che hanno un orto, però queste persone devono anche capire quello che stanno patendo anche tutti gli altri. Ci gente che ha attività chiusa, ci gente che non lavora, ci gente che ha mille problemi e ognuno sta facendo il suo per cercare di aiutare l'insieme e la collettività a venirne fuori. Quindi ancora un piccolo sforzo che vi chiedo, noi nei prossimi giorni cercheremo di capire in che modo sarà possibile aprire quegli orti in sicurezza. In considerazione che noi a oggi non abbiamo ancora immaginato come questo si possa fare, quegli orti rimangono chiusi. Dateci qualche giorno, da qui alla fine settimana e arriveremo poi con una proposta. Quindi per il momento non fatevi trovare in quegli orti, oggi la Polizia Municipale ha già fatto un giro, ha già avvisato con maniere buone, non siamo qua per multare, non è il momento. Semplicemente per dire quelle che sono delle cose che riteniamo in questo momento ancora giuste. Stiamo distribuendo le mascherine. Qualcuno ha detto, io ho sempre detto che relativamente ai DPI, mascherine, tute, tutto il materiale che a noi sempre è arrivato per noi, fin dall'inizio era importante che lo avessero le persone che erano impegnate in prima linea. Quindi abbiamo sempre guardato con un certo riguardo l'ASL, abbiamo sempre guardato le case di riposo, abbiamo sempre guardato i tanti volontari che svolgono dei servizi sul territorio ai quali chiediamo di svolgere determinate attività. Ne cito una su tutti, quelli che vi portano a casa la spesa piuttosto che quelli che sono lì a distribuire i buoni, piuttosto che altri che ci stanno aiutando a fare tante cose. Quindi era a loro che ci interessava dare la protezione. In considerazione che sono arrivati, le avevamo ringraziati, dei quantitativi importanti di mascherine, ci siamo messi nella condizione di iniziarne a distribuire. A chi abbiamo pensato? Ripeto, ogni sistema individuato avrebbe portato una critica. Anche quello, come qualcuno ha fatto, il sindaco mette una mascherina in una busta, la manda a ognuno di voi a casa con un bel foglio, il sindaco ti omaggia dalla mascherina.